Il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato gli arresti dei quattro albanesi presunti autori della rapina di Lignano, accusati anche di sequestro di persona. Appalto regionale pure per il trasporto scolastico penalizza le imprese, dicono le opposizioni, che chiedono le dimissioni dell'assessore Callari. 24 miliardi di valore aggiunto, grazie al turismo il terziario traina l'economia regionale, ma il commercio soffre, SOS dalla montagna. Udinese buona la prova, ma il gol non è un optional, pari importante con il Verona, pochi però due punti nelle ultime cinque gare, musso la nota più positiva. Mister Luca Gotti ospite questa sera di Udinese Tonight, appuntamento come ogni lunedì in diretta dalle 21. Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione della sera del nostro notiziario, assieme a me Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera Angela, buonasera a tutti. E allora siamo pronti per iniziare dalla cronaca, lo avete sentito nei nostri titoli il GIP del Tribunale di Udine ha convalidato l'arresto delle quattro persone, dei quattro cittadini albanesi sospettati di aver messo a segno una rapina nei giorni scorsi a Lignano, una rapina ai danni di un imprenditore ottantenne che è stato anche malmenato. Sono accusati anche di sequestro di persona. Allora andiamo a sentire tutti i particolari da David Zanirato. E' arrivata in tarda mattinata la comunicazione della decisione del GIP del Tribunale di Udine per la convalida degli arresti nei confronti dei quattro albanesi ritenuti gli autori della rapina di Giuseppe Spartà, un imprenditore lignanese di 85 anni, picchiato e derubato nella sua abitazione a Lignano Pineta nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Dopo gli interrogatori di garanzia, la giudice per le indagini preliminari ha confermato il carcere per tutti e quattro i protagonisti del blitz criminale, fermati nelle ore successive dai carabinieri della stazione di Lignano, della compagnia di Latisana e del nucleo investigativo di Udine, ritenendo quindi di accogliere i gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli investigatori. Si tratta di Zef Axia, 29 anni, che risulta senza fissa dimora, Taulent Fruk, 30 anni, residente in Albania, il 26enne Eugen Geonai e il 28enne Vuka Aviliam, entrambi residenti a Forlì. Devono rispondere di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona. Un quinto uomo invece è stato denunciato a piede libero per favoreggiamento personale. Si tratta di un altro giovane albanese che avrebbe lavorato come stagionale a Lignano e che potrebbe essere considerato il basista della banda. L'inchiesta, condotta dal PM Luca Olivotto, continua perché rimangono ancora molti gli aspetti fumosi da accertare, come conferma il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, soprattutto per capire se ci siano dei legami con una rapina subita precedentemente dallo stesso Spartale estate scorsa e se poi il ragazzo denunciato abbia lavorato nel locale all'angolo con via dei Giardini, luogo dove sorge la palazzina in cui risiede Spartà durante le precedenti stagioni estive. Nel frattempo l'uomo è ancora ricoverato in ospedale alla Tisana. Il concessionario del lounge bar Frecce Tricolori, che a seguito del brutale pestaggio ha subito la rottura di quattro costole, è assistito dai medici al suo capezzale il figlio Massimiliano, che racconta di come le condizioni del padre siano in via di miglioramento, seppur l'anziano sia ancora scioccato per l'accaduto. E sta bene, non ha la febbre, è asintomatico. Il 17enne gradese è rientrato in Italia con un volo speciale da Wuhan nei giorni scorsi. Anche il secondo test sul coronavirus è risultato negativo. Allora andiamo a sentire il prossimo servizio che fa il punto proprio della situazione partendo dal bollettino medico dell'Istituto Spallanzani e per poi raccontare anche quanto detto dal giovane gradese in questi giorni dopo il rientro in Italia. Niccolò, lo studente 17enne bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e ora ricoverato allo Spallanzani di Roma, continua a essere in buone condizioni di salute. E' quanto emerge dal nuovo bollettino medico diramato oggi dall'ospedale Spallanzani. Il ragazzo, prosegue il bollettino, continua a essere sereno e di ottimo umore. Il giovane gradese proveniente dalla città di Wuhan continua ad essere in buone condizioni ed è stato sottoposto ai tamponi naso faringei effettuati nella giornata del 15 e del 16 febbraio che sono risultati nuovamente negativi per la ricerca del coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni. Niccolò in un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera ha raccontato anche di come ha vissuto in queste due settimane. La febbre mi faceva arrabbiare perché non avevo nessun sintomo, ha raccontato rientrato in Italia isolato in biocontenimento. Non è stato scomodo il viaggio di ritorno, ero lì disteso sulla barella, chiuso e ho dormito per 10 ore, quasi tutto il viaggio. Mi sono svegliato poco prima di atterrare a pratica di mare. Diciamo che è stato tutto un po' surreale. Tra 12 giorni esco e torno a studiare, ha concluso il giovane gradese. Altra notizia positiva che il ragazzo, così come gli altri 141 studenti italiani che si trovavano in Cina per scambi culturali e sono rientrati in patria a seguito dell'emergenza, non perderanno l'anno scolastico. A prevederlo un'ordinanza diramata oggi dalla protezione civile e firmata dal commissario straordinario Angelo Borrelli. Nicola, al di là del caso che ha toccato da vicino la nostra regione, quali le ultime novità sul coronavirus? Sono oltre un milione e mezzo i passeggeri in arrivo negli aeroporti italiani con i voli internazionali che sono stati sottoposti ai controlli sanitari con le procedure per la prevenzione del coronavirus. Dai dati del Dipartimento della Protezione Civile emerge infatti che dal 5 febbraio sono stati monitorati oltre 13 mila voli per un totale di 1.526.391 passeggeri, 161.574 dei quali solamente nella giornata di ieri sono arrivati con 1.328 voli. Adesso andiamo a sentire come gli udinesi stanno vivendo questa epidemia. Monica Nardini ha raccolto questa mattina alcune voci in centro. Lei signora come sta vivendo tutta questa situazione legata al coronavirus? Sono tranquilla. Teme che possa eventualmente il contagio raggiungere il nord Italia? No, sono un po' inattenti. Sto vivendo in una situazione proprio normalissima, non ho nessun problema, vivo tranquillamente. Fa un po' paura, non lo nego, però cerchiamo di essere un po' sempre con i piedi per terra, valutiamo che da quello che sento mi pare che i contagi siano fermi o perlomeno non aumentino e cerchiamo di viverlo abbastanza serenamente. Hai comunque viaggiato in questo periodo? No, io non ho viaggiato, sono qui. Dovessi farlo un po' in quel senso mi spaventerebbe. Rimanendo qui sono abbastanza tranquilla. Lei è preoccupata? Assolutamente no. Perché non è preoccupata? Perché non sono preoccupata? No. Teme possa raggiungere il virus del nord Italia? No, no. E sono stata tanta preoccupata per il ragazzo di grado. È rientrato tutto bene? È arrivato, sta bene, sono contenta, sono stata in chiesa adesso. Ho pregato anche per tutti. Il resto adesso è tranquilla comunque o le fa ancora paura questo virus? Eh, ho paura perché io ho avuto una zia che non ho conosciuta che è morta di spagnola ai tempi, no? E quindi questa cosa fa paura. Come vive questa situazione legata al coronavirus? Ma guardi, io la vivo normalissima. Cioè, sento... Ho percepito che è molto lontana, quindi non è che... Però sì, che ci sono fonti di pericolo, non so, dall'Africa magari attraversare il mare, magari li fanno entrare senza avere fatto un controllo. Presumo che nei porti bisognerebbe mettere più controlli, non negli aeroporti perché ci sono già nei porti, oppure negli altri confini che possono fare accedere delle persone che vengono da una zona che ancora non è contaminata, ma che comincia a essere contaminata. Rispetto al nord, al frio di Venezia Giulia, comunque non ha paura, Timor? No, anche se si è pieno di confini qua, non ho paura, no? Le altre notizie di cronaca della giornata di oggi nelle nostre flash news. In primo piano c'è l'arresto di un trafficante internazionale di droga a Pordenone e poi ancora un escursionista che è stata recuperata e tratta in salvo sul Monte Matajur e ancora un incidente questa mattina a Udine in Via Gorghi tra due persone che sono risultate positive all'alcol test e poi ancora truffe online. Ci dice tutto, David Zanirato. La polizia di Stato di Pordenone ha arrestato un trafficante internazionale di droga all'attitante del 2010. L'uomo, 43enne albanese, era stato condannato dal Tribunale di Perugia su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Faceva parte di una rete di 24 persone, tutte a vario titolo indagate, che operavano in Umbria nell'ambito degli stupefacenti, ma anche dello sfruttamento della prostituzione. Una volta finito nel mirino della giustizia, l'uomo però aveva fatto perdere le sue tracce fino a sabato 15 febbraio scorso, quando alla sala operativa della questura a Pordenonese è scattato un alert alloggiati da un albergo cittadino. I poliziotti sono arrivati in hotel e hanno bloccato l'uomo, che è stato portato in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nella notte una tempestiva operazione di ricerca ha consentito di ritrovare e portare in salvo un escursionista di Caporetto, classe 1955, colta dal buio durante la salita al monte Matayur. L'allarme è scattato attorno alle 23 dalla vicina di casa della donna, che non l'aveva vista rientrare ed era al corrente del fatto che l'amica volesse raggiungere la cima del monte. Le ricerche hanno interessato i diversi versanti della salita e al ritrovamento della sua bicicletta. Si sono concentrate poi lungo la via di Palma, che si inerpica dal versante ovest. Le squadre di soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco l'hanno individuata attorno alle ore 2. È stata ritrovata sana e salva, tranquilla ma molto infreddolita, ad una quota di 1150 metri. Benché fosse solo mattina, entrambe le persone alla guida di due auto che si sono scontrate e sono risultate positive all'alcol test. L'incidente è avvenuto durante la mattinata di domenica all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Gorghi a Udine, tra una Mercedes A180 guidata da un giovane di 30 anni, residente a Muzzana del Turniano, e un'altra Mercedes alla cui guida c'era una donna di 52 anni di Nimis. La dinamica dei fatti è ancora in corso d'accertamento sul posto ai carabinieri del nucleo radiomobile di Udine che hanno deciso di sottoporre entrambi i conducenti all'alcol test. Mette in vendita un articolo su un portale online e invece di ricevere del denaro per il bene, è lui a pagare 2500 euro ai truffatori che lo hanno gabbato. A finire nella rete dei tre imbroglioni, due napoletani di 24 e 23 anni e un romano di 46, è stato un 58enne della zona di Aiello del Friuli. Contattato dal terzetto è stato convinto mediante una serie di artifici che solamente effettuando una serie di operazioni ad uno sportello banco, Matt avrebbe potuto intascare la somma pattuita. È stato così guidato telefonicamente in una serie di passaggi perdendo di fatto i 2500 euro. L'uomo ha sporto denunce ai carabinieri di Aiello che sono riusciti a individuare e deferire i presunti colpevoli, nonostante una serie di accorgimenti volti a coprire la loro identità. E continuiamo con la cronaca, con alcune foto che sono comparse, Nicola, sul web e che hanno fatto notizia. Eh sì, ci spostiamo a Gorizia nella sede del Nazareno che è il centro di accoglienza migranti della città isontina e come potete vedere qui siamo sul gruppo I Love Gorizia, c'è poco amore però in queste scritte che sono comparse appunto sui muri perimetrali del centro e insomma fa anche un po' di sensazione leggerle, le potete leggere tranquillamente con gli insulti ai migranti, con un italiano abbastanza claudicante insomma e delle svastiche a corredo. Un gesto molto grave, sempre a proposito di situazioni analoghe, ci spostiamo a Trieste, la fotografia di un pugile a petto nudo con tatuaggi disegnati sul corpo che richiamano al nazismo e la moda di questa giornata. Angela è apparsa su alcuni manifesti pubblicitari affissi sugli autobus della Trieste Trasporti, un episodio che naturalmente ha sollevato polemiche da parte dell'opposizione comunale di centro-sinistra in consiglio a Trieste, la richiesta di rimozione della locandina al pugine, il testimone di un evento sportivo di box che si terrà in città a metà marzo. Anche l'associazione Ardita, che è l'associazione pugilistica che organizza l'evento, ha rimosso la foto dal profilo Facebook, rimane però sui manifesti degli autobus, non è stata ancora rimossa, ci auguriamo accada presto. E noi andiamo avanti con la politica perché oggi a Udine per la prima volta le opposizioni in consiglio regionale, Partito Democratico, Patto per l'autonomia, Movimento 5 Stelle, Cittadini e Gruppo Misto hanno convocato una conferenza stampa congiunta per un'iniziativa unitaria in cui hanno chiesto le dimissioni dell'assessore regionale al patrimonio Sebastiano Callari. Motivo? La centrale unica di committenza che è stata introdotta nella nostra regione per gestire gli appalti pubblici di tutti i comuni e che secondo le opposizioni crea degli svantaggi per le imprese locali. L'ultimo esempio è quello del bando per il trasporto scolastico. Questa mattina abbiamo seguito anche noi la conferenza stampa, andiamo allora a sentire le parole del Presidente del Patto per l'autonomia, Morretuzzo, e del segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Schiauli. Si sta verificando in questi giorni la giudicazione di una gara della centrale unica di committenza, della CUC, che coinvolge oltre 48 comuni, relativa al trasporto scolastico. Quindi stiamo parlando dei mezzi di trasporto che devono portare i nostri ragazzi a scuola. Bene, qui sono stati fatti 12 lotti, due sono andati deserti, il resto hanno visto la partecipazione in un solo caso di un'azienda locale, negli altri casi invece ci sono offerte presentate da aziende della provincia di Lecce e di Bari. Ora, questo a nostro avviso è pericoloso, è pericoloso non tanto per la provenienza delle aziende, ci mancherebbe, ma per il fatto che il nostro mondo delle imprese locali rischia di essere buttato fuori, letteralmente, da un altro servizio locale. Abbiamo visto cosa è successo nei mesi scorsi con i cimiteri, abbiamo visto cosa è successo con gli sfalci stradali, con la manutenzione di edifici pubblici. Chi diceva e dice prima i friulani oggi in realtà sta demolendo il sistema delle imprese locali. Ecco, questo non è accettabile e sta mettendo in difficoltà non solo le imprese, ma anche il mondo dei sindaci e degli enti locali che davvero sono in difficoltà davanti a questa situazione. Come intendete muovervi nei prossimi settimani? Ma noi abbiamo posto oggi con tutte le minoranze, insomma il Consiglio regionale, in modo forte il tema e diciamo anche all'assessore Callari che se non è in grado di gestire questa situazione è meglio se dalle dimissioni, perché oggi davvero siamo davanti a una situazione preoccupante che rischia di mettere in grossissima difficoltà davvero il nostro territorio. Quindi noi adesso aspettiamo le risposte dell'assessore, vediamo cosa intende fare, se no a nostro avviso è meglio se dalle dimissioni. Perché le aziende locali non hanno partecipato a questo banco? Beh, le aziende locali non hanno partecipato probabilmente per diversi motivi. Il primo perché probabilmente non ritenevano possibile partecipare dal punto di vista economico e della garanzia della qualità del servizio. Ma questa è una domanda che in primis dovrebbe porsi l'assessore Callari il presidente Fedriga. Quando si fa una scelta come questa e le nostre aziende locali tutte non partecipano e vediamo solo due aziende che partecipano di livello nazionale, qualche domanda venirebbe farsela. Venirebbe farsi la domanda se abbiamo dato gli indirizzi politici necessari a far sì che anche le nostre aziende potessero partecipare. E guardate, lo dico con molta serenità, un assessore, un presidente di fronte a un bando di tale delicatezza convoca le imprese, apre un tavolo, cerca di capire quali sono i percorsi per dare continuità e garanzia di servizio alle nostre imprese. Qui rischiamo di perdere quasi 40 milioni di euro di lavori per le nostre imprese, rischiamo di perdere 50 posti di lavoro e non abbiamo nessuna garanzia della qualità del servizio del trasporto scolastico per i nostri figli. Un bel capolavoro. E proprio su questa notizia, Nicola, sulla rete hai scovato un approfondimento. Devo essere sincero, è un suggerimento che ha dato Massimo Morettizzo oggi durante la conferenza stampa, però parlando di queste ditte che partecipano alle gare per il trasporto pubblico e che potrebbero gestire, come si diceva durante il servizio di Monica Nardini alcuni lotti, ce n'è una che è la Scoppio, speriamo che non sia nome e nomine in questo caso di Gioia del Colle in provincia di Bari che ha creato diverse polemiche in Emilia Romagna. Andiamo su questo sito che era Venna Notizie, laddove un consigliere regionale della Lega, Liverani, un po' cognome calcistico, protesta perché nelle tratte gestite da questa azienda di trasporti i bambini, secondo quello che dice lui, sarebbero lasciati a piedi, dimenticati, i conducenti non conoscono i percorsi da fare, per questo ha proposto un'interrogazione in consiglio regionale in Emilia Romagna a suo tempo e ovviamente è un atto ufficiale, ne diamo conto, non giudichiamo l'operato della ditta, però questo è accaduto. Passiamo all'economia adesso con le ultime notizie, gli ultimi dati sul terziario del Friuli Venezia Giulia, un settore che si conferma trainante per l'economia della nostra regione con 24 miliardi di valore aggiunto ma che nel 2019 ha registrato un saldo negativo di imprese esistenti, pari a 1.370 unità. A soffrire soprattutto le aziende del commercio, bene invece il turismo grazie a quale appunto il terziario risulta trainante, in particolare difficoltà le aziende commerciali, piccoli negozi della montagna. Allora andiamo a sentire le interviste che abbiamo raccolto questa mattina. Come si è chiuso il 2019 sul fronte del terziario? Allora si è chiuso con una situazione di sostanziale stabilità, anche la previsione che fanno gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi indica una sostanziale stabilità dell'andamento della propria attività economica per i primi mesi del 2020. Alcuni settori vanno meglio di altri, in particolare il turismo e anche le imprese, dei servizi, il commercio al dettaglio continua a manifestare più di una difficoltà. Il calo delle imprese c'è, è fisiologico, calano di più le imprese del commercio al dettaglio, in compenso sono aumentate e questo si vede anche su un trend storico degli ultimi dieci anni, le imprese del turismo, sia le strutture di ricezione alberghiere, sia i pubblici esercizi, i barri, i ristoranti. Dato interessante, gli occupati che sono stati persi, i lavoratori che sono stati persi nell'ambito del commercio al dettaglio, sono stati rifatti quasi interamente dalle imprese del turismo. La provincia di Udine come se le è cavate? La provincia di Udine è una provincia virtuosa, di fatto quasi la metà delle imprese del terziario di questa regione sono tutte ad Udine, Udine di fatto è il Filippo Venezia Giulia e riesce a sviluppare un trend positivo in termini di ricavi per le imprese che vi operano e anche capacità di dare occupazione. Proposto anche il focus sulla montagna che dunque continua a essere in difficoltà. Sì, le imprese del terziario della montagna hanno un andamento che è inferiore in termini di performance rispetto a quelle all'andamento delle imprese del terziario, tutte vanno meno bene, tranne ovviamente le imprese del turismo che invece anche quelle residenti dei comuni montani vanno molto bene. La nostra regione, basta guardare la carta geografica, è composta prevalentemente una montagna e prevalentemente da piccoli comuni, mi sembra che i comuni sotto i 3.000 abitanti siano circa 200, prima i centri commerciali, l'online, poi lo spopolamento delle aree marginali e quant'altro, fa sì che molti comuni, ma non solo quelli di poche centinaia di abitanti, ma anche quelli di 1.000, 1.500, 2.000 abitanti, mi diceva il Presidente dei piccoli comuni, che rischiano di non avere più i locali di prima necessità, quindi non solo i negozi ma i pubblici esercizi, che sono anche un punto di incontro, hanno un rilievo sociale importantissimo. Ed ecco per questo che abbiamo richiesto alla regione un intervento che vada proprio a colpire, ad aiutare questi piccoli negozi, queste piccole attività di pubblico esercizio, sostenendogli alcuni costi, una copertura dei costi di gestione. E una risposta dalla regione è arrivata, Nicola. Subito in tempo reale, Angela, perché rappresenta l'assessore Bini, che ha detto appunto che la regione aggiornerà la legge sul commercio 29 del 2005, non appena la legge sviluppo impresa verrà approvata all'amministrazione regionale, ha detto Sergio Bini, è sempre stata vicina alle attività commerciali e in sviluppo impresa, una parte determinante dedicata proprio al terziario con interventi per la rigenerazione dei centri storici, la creazione dei distretti del commercio e soprattutto il sostegno ai negozi di vicinato. L'emendamento al riguardo ha fatto sapere la regione, prevede contributi a fondo perduto per attività collocate in comuni sotto i 3.000 abitanti con una posta iniziale di un milione di euro che potrà essere incrementata in futuro. E poi passiamo a un bene regionale, diciamo così, in senso lato che è Palmanova, perché un nuovo mezzo meccanico in azione per ripulire dalla vegetazione i bastioni della città fortezza, patrimonio dell'UNESCO, è attivo in modo sperimentale. Si tratta appunto di un ragno meccanico che guidato da un operatore specializzato riesce a svolgere il lavoro di sei uomini in metà del tempo, permettendo di raggiungere i punti più difficili e impervi della cinta fortificata. In soli dieci giorni è stato possibile ripulire un terzo dei nove baluardi della città di Palmanova. E dopo questa notizia su Palmanova possiamo aprire la nostra pagina sportiva. Iniziamo parlando di Udinese, Udinese che il giorno dopo il pareggio con il Verona si interroga sul valore del punto conquistato con lo 0-0 di ieri. Nel prossimo servizio di Alessandro Surza analizziamo il momento dei bianconeri e che devono fare a meno in questi giorni di De Maio a forte rischio anche per la prossima partita contro il Bologna a causa di un risentimento muscolare. Sentiamo. Mezzo pieno o mezzo vuoto? Com'è il bicchiere dell'Udinese dopo lo 0-0 casalingo di ieri contro il Verona? Bisogna chiedersi questo per capire come prendere il punto conquistato contro i gialloblu. Vera rivelazione della Serie A 2019-2020 fino a questo momento. Nonostante l'ennesima gara senza reti prodotte, tutto sommato verrebbe da vederlo mezzo pieno perché di fronte c'era una squadra in ottima salute a differenza della convalescente Udinese perché la porta è stata chiusa a doppia mandata, bentornato musso e perché comunque il pallino del gioco è stato spesso in mano ai bianconeri. Resta però sempre d'attualità il problema del gol. 20 reti in 24 partite sono oggettivamente poche. Penultimo attacco del campionato solo la Spal ha fatto peggio. Il Brescia 19 ne ha realizzate per dire 21. Analizzando poi solo le gare casalinghe, i friulani sono addirittura ultimi con 10 gol fatti, esattamente come la Spal. I numeri contano fino ad un certo punto, è vero, ma qualche indizio lo devono pur dare. E allora quali sono le soluzioni quindi da adottare? Un cambio di modulo difficile per caratteristiche dei giocatori e per il lavoro comunque buono svolto fin qui da Gotti. Non è colpa sua in fin dei conti se si sbagliano gol già fatti. Si continuerà quindi a battere la strada della continuità. La stessa strada che ha portato alle tre vittorie consecutive. Sembrano passati anni ma sono trascorsi solo 35 giorni dal 3-0 rifilato al Sassuolo. Bisogna quindi avere equilibrio ma bisogna anche tornare a vincere sabato. L'Udinese ha in drenscena al Dallara di Bologna. Altra opportunità per tornare a sorridere. Parliamo di basket adesso con l'ottava vittoria esterna della stagione per la pallacanestro Udine che ha battuto Piacenza dell'ex coach Martellossi per 77 a 56. Ci racconta tutto Lorenzo Pausa. L'Apu si rialza prontamente dal passo falso contro Mantova ed espugna il palabanca di Piacenza con una superiorità sull'assigecco allenato dall'ex bianconero Martellossi apparsa evidente. Il tutto al netto in verità dei primi sei minuti di gioco dove Piacenza scappa via con percentuali irreali da tre punti. Ma nel momento in cui Udine riaccorcia le distanze fino almeno tre di fine primo quarto la sensazione è subito quella che i padroni di casa, una volta esaurita la trans agonistica dall'arco, non avrebbero avuto benzina per tenere il passo dei friulani. Una Old Wild West dalle mille risorse, squadra che anche senza il lungo degente Fabi, senza capitano Antonutti fuori dai giochi per via di un polpaccio dolorante e con Stroutins frenato dai falli, riesce a prevalere anche con quintetti del tutto inediti, con Jack Zilli spesso in campo assieme a Beverley come ala forte. La ripresa poi non ha storia. Si sbaglia tanto da entrambe le parti, ma è l'Apu in particolare a stringere efficacemente le maglie difensive, concedendo appena 17 punti agli emiliani che troppo presto alzano bandiera bianca. Due punti che non cambiano la classifica avendo vinto tutte le prime sei del girone, ma che infondono fiducia in vista degli ultimi due confronti prima della fase orologio. Due gare, quella del Carnera contro San Severo e la trasferta di Orzi Nuovi sulla carta alla portata dei ragazzi di Coach Ramagli, ora però chiamati a fare risultato anche in casa dopo aver trovato l'ottava affermazione esterna della stagione. Torniamo al calcio. Calcio femminile cambia allenatore il Tavagnacco. La pesante sconfitta contro il Milan è stata fatale per mister Luca Lugnan. La squadra è stata affidata a Chiara Orlando. Sentiamo. È finita l'avventura di Luca Lugnan sulla panchina del Tavagnacco. Il mister Friulano è stato sollevato dall'incarico di allenatore delle Giallo-Blu dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan. Troppo sonoro il 4-0 subito per mano delle Rossonere nonostante sia maturato solo nella ripresa. Un crollo che ha convinto la società a cambiare per cercare di dare una sterzata ad una stagione complicata. La salvezza è ancora possibile grazie anche alla concomitante sconfitta del Pink Bari contro la Florenzia. Ma per ottenerla bisogna cambiare marcia perché i due punti di distacco dalle Pugliesi non saranno facili da rimontare. L'obiettivo quindi è ancora vivo ma per centrarlo si è deciso di cambiare guida tecnica. La squadra è stata affidata all'allenatore della primavera Chiara Orlando che sarà coadiuvata da Gianni Iacuzzi, allenatore in seconda della prima squadra. Oggi è in programma il primo allenamento della nuova coppia in vista della gara di sabato contro l'Empoli. Le Toscane occupano l'ottavo posto in classifica e l'altro ieri hanno vinto per 3-0 in trasferta contro l'Orobica. Occhi dunque aperti. Lugnan quindi saluta dopo sei mesi e mezzo e dopo aver collezionato due vittori, tre pareggi e 10 KO in 15 partite. E il mister Nicola sarà ospite questa sera dei nostri studi? Sì, non Lugnan. No. Luca Gotti naturalmente, l'allenatore dell'Udinese che sarà ospite di Giorgia Bortolossi e Jacopo Romeo ad Udinese Tonight a partire dalle ore 21. Appuntamento dunque alle 21 per il Tonight del lunedì. Noi ci fermiamo qui per il momento. Grazie a Nicola Angeli. Grazie Angela Caino. A tutti voi che ci avete seguito, ovviamente rimanete in nostra compagnia perché ci aspetta una bella serata. Buona serata a tutti.